Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Sono io, Blippi! Andiamo al museo per bimbi delle grandi esplorazioni a San Petersburg, Florida! E vai! Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dentro e iniziare a giocare! Wow! Venite! Wow! Guardate dove siamo, al capanno della sabbia! Già! È una super sabbiera gigante e possiamo entrarci insieme! Ma prima dobbiamo toglierci le scarpe! Una, due! Ok, le metto in un angolo e possiamo entrare! Non scordate il secchiello! Wow! Che bello! Wow! Wow! È fantastico! È molto sabbioso! C'è tanta sabbia qui! E per fortuna abbiamo un secchiello e delle palette! Sì, queste sono due! Pallette blu! Raccogliamo la sabbia! Uh! E poi abbiamo uno, due, tre secchielli diversi! Allora, questo qui è di colore giallo! Questo qui è di colore arancione! E questo qui è di colore rosso! Già! Questi sono molto utili per metterci la sabbia! Wow! Wow! E poi fare un castello di sabbia! Ok, vogliamo provare? Oh oh! A quanto pare il nostro castello non sta in piedi, ma non fa niente! Qualche volta, quando provi a fare qualcosa, non funziona al primo tentativo! Perciò bisogna continuare a provarci! Ecco, qui è proprio bello! Wow! Li avete visti questi animali? Wow! Questo sapete che animale è? Oh, si nasconde nella sabbia! Già! Questo animale è un granchio! Forse deve sgranchirsi un po'? Che sciocco! Beh, questo granchio è veramente bello! Ehi, voi lo sapete come si muove di solito? Aha! Ai granchi non piace camminare come noi, loro si spostano camminando di lato! Ehi, non vi andrebbe di camminare come un granchio? Vai! Ok, proviamoci! Vai con la camminata da granchio! Wow! Camminare come un granchio è troppo divertente! Già! Ma guardate qui, c'è un altro animale! Wow! Questo animale è molto grande e ama vivere sulla spiaggia, proprio come i granchi, in mezzo alla sabbia! Questa? Sì, questa è una tartaruga! Wow! E guardate quanto è grande il suo guscio! Wow! È più grande della mia testa! Wow! È così divertente giocare nella sabbia! Wow! Magari potremmo fare un angelo della sabbia! Vediamo? Ci siamo! Wow! È stato molto divertente giocare nella sabbia con voi! Devo ripulirmi un po' perché mi sono riempito di sabbia! Continuiamo a esplorare! Ma prima mettiamo le scarpe! Ho indossato le scarpe e devo solo allacciarle! Già! Voi lo sapete come si allacciano? Già! Può essere molto molto difficile allacciarle! Ma vi mostro come faccio io! Allora prendo i miei lacci e subito li incrocio così! Poi prendo uno dei due lacci e lo faccio passare in mezzo! Ecco così! E poi tiro forte! Finito il primo passaggio, allora prendo i due lacci e faccio due belle orecchie da coniglio! Già! Proprio come queste! Vedete le mie orecchie da coniglio? Sono molto carine, vero? Poi prendo le orecchie e le metto insieme come in un abbraccio! Ne ho passata una sotto e finisco tirando forte! Ok! Adesso lo farò più velocemente! Ok! Prendiamo i due lacci, li incrociamo! Un laccio va sotto l'altro! Poi un orecchio da coniglio, due orecchie da coniglio! Poi le incrociamo! Ne facciamo passare una sotto l'altra, le facciamo abbracciare e poi stringiamo! Wow! Guardate! Abbiamo allacciato le scarpe e qualche volta io lo rifaccio di nuovo per avere un doppio nodo! Perché mi piace ballare, mi piace correre e giocare! E non si può giocare e ballare con le scarpe slacciate perché si può inciampare nei lacci e non sarebbe divertente! Beh, dobbiamo vedere un sacco di cose! Andiamo! Questo posto è pieno di meraviglie! Guardate questo grande cerchio! Ciao! E guardate cosa c'è qui! Tantissimi cubi! Guardate! Ci sono tanti colori diversi su questi cubi! Vediamo! Qui c'è il colore bianco e il colore rosso! E anche il colore viola e il colore blu! Aspettate un attimo! Se li giro da questa parte, ecco i miei due colori preferiti! Il blu e l'arancione! E guardate un po' qui! La vedete? È una fattoria in miniatura con molti animali che ci vivono dentro, come questo bel maialino! Aink, 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 aink! Wow! E guardate questi! Ci sono tre animali qui! Uno, due, tre! E voi sapete che tipo di animali sono? Già! Sono piccoli agnelli e sono carini e piccini! Uh! Anche loro li mettiamo vicino al ponte! Wow! Guardate qua! Ci sono quattro muc veramente grosse! Muuu! 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 Già! Una, due, tre, quattro! Wow! Quattro muc belle grosse! E staranno... Staranno nell'acqua! Si stanno facendo un bagnetto perché fa molto caldo! Uh! 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 Ciao, signor maialino! Ciao, signora mucca! Ciao! Beh! Che sciocco! È stato divertente, no? Prima giocare con i cubi e poi giocare con gli animali! Ehi! Guardate qui! Wow! Che meraviglia! Ne avevate mai visto uno prima d'ora? Allora, questo è un oggetto che si chiama abaco! Ed è molto utile per studiare matematica o meglio aritmetica! Guardate, potete usarlo così! Un limone giallo Più un limone giallo Quanti limoni sono alla fine? Già! Due limoni! Ok, questo era facile! Ma ora proviamo qualcosa di più difficile! Quanto fa due mele rosse Più tre mele rosse? Wow! È molto difficile! Contiamole! Una Due Tre Quattro Cinque Wow! Due Più tre mele rosse Fa cinque mele rosse! Wow! Visto? L'abaco è molto utile Per contare e divertirsi! Questi sono veramente enormi! Abbiamo un bel cocomero E... Una bellissima zucca! E la zucca è del mio colore preferito L'arancione Chissà cosa sono Wow! Che ve ne pare? Già! Questo non è un cocomero È un cocomero tamburo Vuol dire che anche la zucca forse è un tamburo Wow! Suonano veramente bene! Wow! Questa in pratica è una batteria di frutta! Vai! Wow! Guardate cosa c'è qui! Wow! Nel cestino ci sono tanti tipi di frutta e verdura Già! Abbiamo la lattuga La cipolla Il gran turco La patata La carota Wow! E... Il pomodoro! Sono molti e tutti diversi! Adesso facciamo una cosa Un gioco divertente In cui prendiamo tutta la frutta e la verdura dal cestino E poi la associamo con il cartello giusto Allora, per prime abbiamo delle cipolle Quindi vediamo Una cipolla Due cipolle E vai! Ce l'abbiamo fatta È stato facile Adesso abbiamo due pomodori rossi Dove dobbiamo mettere i pomodori? Qui? Mmm... Qui? Già! È giusto! Li mettiamo qui! Ok! Andiamo! Uno Due Ok! Ne abbiamo ancora un po' Wow! Che ne dite di queste? Wow! Di queste ce ne sono parecchie! Aspettate! Dove la metto questa lattuga? Qui c'è scritto lattuga Ma ce ne sono quattro pezzi E i buchi sono solo due Uh! Aspettate! Queste sono delle metà Perciò se prendete una metà E poi un'altra metà E le mettete insieme Ne ottenete una sola Un solo cespo di lattuga E ne abbiamo altre due Quindi una metà e una metà Una metà e una metà Due cespi interi di lattuga Le mettiamo nei buchi Uno Due Poi abbiamo due pannocchiette Uh! E guardate qui Abbiamo Delle carote Adoro le carote E piacciono anche a molti animali I conigli e i cavalli Uh! Mmm! Sembra che abbia Orecchie da coniglio Fatte di carote Sono buffo, eh? Ok! Le mettiamo tutte a posto Una carota E Due carote Che cosa è rimasto? Certo! Una patata! Vediamo un po' Qui abbiamo una bellissima patata E poi abbiamo un'altra patata Esatta No, aspettate Questa è una patata o no? Ah ah ah! Ma certo che non è una patata È una ciambella Che sciocco! Beh, la mettiamo comunque Al posto della patata Perché ne abbiamo solo una Ma questa non è una patata Wow! Abbiamo fatto un ottimo lavoro A separare la frutta e la verdura Ma ci sono ancora tante cose da vedere Andiamo! Ah 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 Ehi! Wow! Sono appena uscito da una magnifica casa sull'albero Ehi! Che ne dite di esplorarla? Wow! Guardatela! È veramente molto grande! Quest'albero è enorme, vero? Già! Guardate! È così grande che hanno costruito Una casa sotto l'albero Cioè dentro l'albero E una casa sopra l'albero Wow! È davvero una casa bellissima Infatti voi e io dovremmo entrarci Andiamo! Oh! Guardate questo posto È veramente stupendo E guardate il cartello Questa non è una casa qualunque Questa è il covo dei Longo Wow! E guardate qui Questa è una nave dei pirati Wow! Qualcuno ha messo una pesantissima nave E sopra quest'albero Ciao, pirati! Wow! Sono troppo emozionato Andiamo a vedere com'è Ma ho avuto un'idea grandiosa E se voi e io contassimo gli scalini Che ci sono per salire Forza, andiamo! Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ce ne sono altri qui Otto Nove Dieci Undici Wow! Dodici! Uh! Siamo riusciti a fare tutti gli scalini Ed erano dodici Erano parecchi Uh! Wow! Guardate cosa c'è Sapete cos'è questo? Già! Questo si chiama cannocchiale E ci aiuterà a vedere molto molto lontano Wow! Riesco a vedere lontanissimo! E guardate qui Riuscite a trovare questi pennuti? Già! Ci sono tutti questi uccelli sparsi sui muri E nascosti in posti diversi Quindi il cannocchiale ci serve per vedere se riusciamo a trovarli Ok Dobbiamo cercare Un falco pescatore Una spatola rosata Un pellicano marrone Un airone azzurro Un becca pesci E Una ninga Uh! Questo nome sì che è veramente strano Forza proviamo a cercarli Ok Sto cercando Wow! Credo di aver trovato la ninga È proprio laggiù Oh! E vedo un airone azzurro È proprio lì Sul muro blu E poi? Sì guardate Laggiù c'è il becca pesci Wow! Mi è piaciuto da pazzi Cercare tutte queste diverse specie Ehi! Lo sapete dove amano vivere questi uccelli? Già! Loro vivono in un posto Noto come l'estuario Wow! Estuario è una parola molto particolare Ma in pratica è il punto dove l'oceano Incontra un fiume Uuuuuh! Già! Ehi! Vi faccio una domanda Secondo voi in un estuario c'è L'acqua salata? Oppure L'acqua dolce Acqua senza sale? Mmm Già! Tutti avete ragione Perché c'è dell'acqua salata E dell'acqua dolce È un'acqua Mezza salata? Già! E il suo nome è Acqua salmastra Wow! Un'altra parola difficile Ma è un bel posto Perché tutti questi uccellini E tanti bei pesciolini Amano vivere lì Già! Wow! Questa casa sull'albero È veramente magnifica Andiamo a vedere cos'altro c'è Wow! Guardate questo posto Vedete sopra di me? Wow! Questo qui è un timone Wow! Scommetto che apparteneva Ai pirati Alla loro nave Wow! È proprio forte Sarebbe bello Poter navigare Su una vera nave In mezzo all'oceano Wow! Ehi! A quanto pare C'è una gran quantità Di spazzatura In questa casa Sull'albero Ah! Ecco! Qui sopra c'è scritto Non inquinare Mai sentita la parola riciclo? Già! È una cosa molto bella Perché riciclare Aiuta a proteggere gli animali Che vivono nell'oceano E sulla terra Già! Quando avete della spazzatura Andate a buttarla Nei contenitori del riciclo O in un cestino Ma non nell'acqua Beh! Questa casa sull'albero È davvero stupenda Ma voglio vedere Se riesco a salire Fino in cima Ci vediamo dopo! Wow! Ragazzi è stato pazzesco Ma sono un po' frastornato Wow! Ehi! Ho avuto una bellissima idea Ora voi e io Saliamo sulla nave dei pirati Del covo dei Longo E poi andiamo Sullo scivolo giallo! E vai! Coraggio! Andiamo! Wow! Direi che ci siamo già stati qui Ok! Eravamo andati di là Perciò ora Proviamo ad andare di qua Qui è troppo forte Guardate questo posto Questa casa sull'albero Fa un po' paura Beh! È stato un vero spasso Stare con voi Esplorare il capanno della sabbia E il cubo dei Longo È stato super divertente E adesso Per finire davvero in bellezza Scivoleremo giù dal grande Scivolo giallo Ok? Credo di essere pronto Ai vostri posti Tutti pronti? E partenza Via! Ciao ciao! Woo! Wow! È stato molto divertente! Wow! È stato bellissimo Giocare con voi oggi qui Al Museo per Bambini Delle Grandi Esplorazioni A St. Petersburg, Florida E poi Ci siamo divertiti un sacco A giocare nel capanno della sabbia E a salire fino al punto più alto Del covo dei Longo Wow! Beh! Siamo arrivati alla fine del video Ma Se volete vederne qualcun altro Non dovete fare altro Che cercare il mio nome Ehi! Voi lo sapete come si scrive? B-L-I P-P-B Blippi Ottimo lavoro Ci vediamo presto allora Ciao ciao! Woo! Ciao alce! Oh! Ehi! Ciao! Sono io Blippi Guardate qua Questo è un alce gigante E oggi voi e io Siamo al Northwest Track Di Eatonville, Washington E vedremo tantissimi animali straordinari! Magari vedremo un alce Sono così contento Andiamo! Ciao ciao alce! Wow! Guardate un po' questo Impressionante fuoristrada Cospita è troppo forte È su questo che voi e io Faremo il giro Andiamo a studiarlo Per assicurarci che sia sicuro Guardate! Sono ruote pneumatiche Davvero grandi Wow! Guardate che battistrada È un battistrada molto grande Per i difficili percorsi Che faremo! Già! Wow! Guardate quella lassù? Quella che vedete C'è la tettoia Quindi nel caso che piovesse Noi non ci bagneremo È una specie di ombrello Ma per i veicoli Molto bene! Andiamo a vedere dentro Wow! Ehi! Guardate questo! Pronto! Pronto! Northwest Track Qui a Blippi Posso venire per il tour? Ho ricevuto Blippi Hai via libera per il tour D'accordo! Sentito? Siamo pronti a iniziare il tour Bene! Prima però Dobbiamo finire Il tour del veicolo! D'accordo? Guardate un po' qua Questo è il serbatoio In cui si mette la benzina Già! Bene! Direi che è pieno Fatto! Oh! Ora andiamo sul retro del veicolo Wow! Avete visto? Wow! Ci sono un sacco di posti a sedere qui Wow! È davvero stupendo! Mi siederò proprio qui Così potrò avere una vista panoramica Di tutti i simpatici animali Che stiamo per vedere Andiamo! Wow! Wow! Vedete quegli animali? Quelli sono Uapiti Ehi! Guardate quello lì Quello ha Dei grossi palchi Quello lì è un maschio E tutte le altre sono Femmine! Ci vediamo dopo! Oh! Sembra stiano giocando! Ciao! Andiamo a scoprire Tutti gli altri animali Che ci sono qui in giro Wow! Guardate là! Quello è un bisonte Wow! E vedete che ha una pelliccia Su una parte della schiena? Sì! Certo! Una pelliccia molto corta E una pelliccia più lunga E la pelliccia lunga Si chiama mantello Già! Vuol dire che questo bisonte È un maschio Wow! Questo bisonte È così grande Che pesa almeno Quanto una piccola auto Ah ah ah! Wow! È molto divertente Essere al Northwest Track Ah ah ah! Wow! Vedete quell'animale? Quello è un alce Posso capire facilmente Che quello è un alce Da quella cosa che ha sotto Il suo mento Viene chiamata campana E c'è un altro alce laggiù Ciao alce! Ehi alce! Vedete come sta muovendo le orecchie Quell'alce? Già! Hanno orecchie molto grandi Probabilmente devono sentirci bene Ovvio! Vediamo Ciao alce! Ciao! Ciao! Ehi! Ho parlato molto piano E lui mi ha sentito Ah ah ah! Guardate quegli animali Quegli animali Sono grosse pecore Con le corna Vedete le corna? Sì! Se le guardate di lato Sembrano quasi dei cerchi Wow! Che begli animali! Wow! È uno spasso qui Al Northwest Trek Stiamo scoprendo Tanti animali Sono così carini Ah ah ah! Wow! Vedete anche voi? Ci sono tre capre Proprio qui Ehi! Voi e io Le dovremmo contare Una Due Tre Già! Tre capre bianche Oh! Sono così carine Ciao capre! Ehi! Ah ah ah! Oh! 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 Visto due vanno via Tre Meno due Fa una Ma sono ancora lì Quindi sono tre Ah 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 Che buffo! Wow! Che forza! Quel bisonte è grandissimo Ah ah! E quelle capre Sono molto piccole È davvero bello Che queste due specie Di animali Vivano così vicine L'una all'altra E vadano anche D'accordo Ah ah ah! Ah ah ah! Wow! Il Northwest Trek È proprio un posto Incredibile In cui vedere Animali tipici Di questa zona Del nord-ovest Già! Oh beh! Dobbiamo proseguire Perché abbiamo ancora Molti animali da vedere Andiamo! Wow! Vedete quegli uccelli? Ah ah ah! Sono così grandi! Quelle sono Aquile calve Vedete che Quella lì Ha il collo E la testa Bianchi? Già! Quella è un'aquila adulta Ma quella che vedete lì Ha il collo E la testa Più scuri Il che vuol dire Che è un'aquila giovane Cioè ha cinque anni Ed è giovane Ehi! Quanti anni avete voi? Ah ah ah! Forte! Wow! Questa che vedete È l'apertura alare Di un'aquila calva Wow! È un'apertura alare Un po' più grande Della mia! Wow! Co! 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 Wow! Vedete quell'animale? Ah ah ah! Quell'animale È un procione Wow! I procioni Sono così carini Ah 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 ah! Già i procioni Si possono trovare In tanti posti Nella natura Incontaminata E persino Nelle città Già di notte Io sento Che la mia spazzatura Si Si sta muovendo Ah! E di solito È un procione Che ero vista In cerca di cibo Ah ah ah! Wow! Vedete quelli? Sono dei piccolissimi Pezzetti di cibo Per un animale Chiamato Lontre di fiume Sono così Eccitato! Ah ah ah! Oh! Vedete quegli animali? Quelle sono le lontre di fiume Di cui parlavo prima Ah ah ah! E adesso Stanno mangiando! Wow! Guardiamole meglio Ehi! Eccole lì! Wow! Oh oh! Sembrano davvero affamate! Le lontre di fiume Possono immergersi Fino a 60 piedi Di profondità! Wow! Sarebbero circa 20 metri! Una grande profondità! Ah ah! Guardatele! Wow! Quello è un ghiottone Ha degli artigli Molto affilati Ha i denti taglienti E la mascella così forte Che potrebbe tritare un osso Wow! Questi animali Sono molto feroci Sono feroci Perché Perché vivono Nella natura selvaggia Wow! Che animali incredibili! Wow! Vedete quegli animali? Già! Quelli sono orsi E nello specifico Degli orsi grizzli Ha ha! E sono gli orsi più grandi Che vivono nel nord-ovest pacifico Oh! Sono così grandi! E hanno un olfatto Così sviluppato Che possono fiutare il cibo Anche a 20 miglia di distanza Wow! Sarebbero circa 32 chilometri È parecchio lontano Ehi! Ho un'idea Facciamo che voi e io Fingiamo di essere un orso? Dunque Ci mettiamo a quattro zampe Ma quando sentite la musica Vi dovrete alzare in piedi E ruggire E ballare come un orso Pronti? Bene! Facciamo gli orsi! E' stato così divertente Oggi al nord-west track A Etonville, Washington Wow! Di sicuro abbiamo imparato Un sacco di cose Sugli animali del nord-ovest pacifico E' vero? Già! Mi è piaciuto tanto Imparare con voi Bene! Siamo arrivati alla fine del video Ma se volete vederne altri Vi basta solo Cercare il mio nome Facciamo insieme Lo spelling del mio nome? Pronti? B-L-E-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! D'accordo! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao! Sono io, Blippi E oggi ci troviamo A Medieval Times Ad Orlando, in Florida Wow! E guardate quello? E' un castello gigante! Già! Wow! Ci troviamo nell'epoca medievale Che risale a tantissimo tempo fa Già, in pratica All'undicesimo secolo Wow! Lo sapevate che nel Medioevo La gente non guidava le auto No, perché andavano a cavallo Che sciocchino! Ehi! Voi non vi siete mai chiesti Com'era la vita nel Medioevo? Io me lo sono chiesto Beh, oggi Voi e io Entreremo qui nel castello di Orlando E impareremo tutto A riguardo Già! E chissà Magari potremo vedere anche un vero cavaliere Sarebbe davvero bello! Dai! Andiamo a scoprirlo! Wow! Guardate quello! Quello è un vero cavallo! Salve signor cavallo! Oh, è dolcissimo! Oggi ci troviamo nella scuderia del villaggio Già! La scuderia è dove i cavalli mangiano dell'ottimo cibo E fanno pisolini Già! E dove si preparano e vengono equipaggiati per il torneo Già! Ehi, lo sapete che verso fa il cavallo? Già, esatto! Nitrisce! Ehi, volete provare a nitrire insieme a me? Ok, dai! Cominciamo! Che sciocchino! Beh, questo è un cavallo molto carino Ma che ne dite se noi andiamo a dare una mano a partare i cavalli per il torneo? Dai, andiamo! Wow! Guardate un po'! Questo tavolo ha tutto l'equipaggiamento necessario a preparare il cavallo per fare il torneo Già! Guardate qua! Wow! Sì, questa è una spazzola che serve a togliere la polvere e lo sporco dal dorso del cavallo Già! Questa serve per il corpo, per spazzolare il suo corpo Wow! E guardate un po' questa qui! Com'è? Appuntita! Già! Queste sono le spazzole per la criniera del cavallo e per la coda Già! Hanno delle setole più lunghe che passano attraverso il pelo Le possiamo usare anche noi! Uh! 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 Che ciocchino! Wow! E guardate qui! Qui c'è tutto quello che bisogna mettere sul cavallo Abbiamo il sottosella! Già! Questo sottosella è morbido e soffice Così! Uh! Puff! 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 La sella può essere pesante E va messa sul dorso del cavallo Affinché i cavalieri possano andare in giro a cavalcare E si allaccia con questa È come una cintura per il cavallo Wow! Quindi si chiude Poi si sale E infine si cavalca super veloce! Wow! Che ciocchino! Wow! E questa Questa è l'ultima cosa Che bisogna mettere sopra il cavallo Questa Si chiama gualdrappa Già! Una specie di coperta Ed è di colore verde E Marrone Già! Ottimo lavoro! Già! La gualdrappa Aiuta i cavalieri A distinguersi fra loro E a distinguere un cavallo da un altro Così che non sembrino uguali Con le loro armature di metallo E i cavalli bianchi Già! Questa Va sopra la sella E va messa come ultimissima cosa Ecco! Questo è tutto ciò che serve Adesso è il momento di prepararsi A bardare il nostro cavallo Per il torneo! Ok! Prima Prendiamo una spazzola Andiamo! Wow! Ciao! Ehi! Guardate! Questo è un cavallo Davvero bellissimo! Ciao! Lui si chiama Humo Ciao Humo Per prima cosa Spazzoliamo la pelliccia Il pelo I cavalli non hanno la pelliccia Già! Spazzoliamo per bene Tutta la polvere Eh sì! Ce n'è tanta! Già! E ora che abbiamo pulito Humo E tolto tutto lo sporco E la polvere Possiamo mettere il sottosella La sella E infine anche la gualdrappa Procediamo! tutti i cavalli non hanno la prezzolazione Adesso è di colore verde e anche marrone! Già! Beh, è stato proprio divertente aiutare a preparare Humo, ma adesso è giunto il momento anche per noi di andare a vestirci per partecipare al torneo! Ok, stiamo per andare, ma penso che Humo sia stato davvero un bravissimo cavallo e per cena ha mangiato le sue squisite verdure e della frutta! Gli daremo una zolletta di zucchero! Ciao! Ottimo lavoro, Humo! Uh! Che solletico! Uh! Humo, sei un bravo cavallo! Ma adesso dobbiamo andare a vestirci anche noi! Andiamo! Ehi! Sono io, il Cavaliere Blippi! Che sciocchino! Non sono un vero cavaliere, ma oggi, insieme, vedremo di capire che voleva dire essere cavalieri mille anni fa! Wow! È passato veramente tantissimo tempo! Vi siete mai chiesti cosa significasse essere un cavaliere? Mmm! Beh, doveva essere coraggioso e andare a cavallo! Mh! 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 Che sciocchino! E poi doveva essere forte e buono! Wow! Beh, a ripensarci, essere un vero cavaliere è molto complicato! Wow! Guardate! Un vero cavaliere! È giunto il momento di nominare Cavaliere Sir Blippi! Non sto nella pelle, perché voi e io impareremo di più sui cavalieri, ma avrò anche l'opportunità di diventarlo! Ma prima devo completare tre prove da cavaliere! Wow! E guardate qui! Questa è la prima prova che dovrò affrontare! Si chiama la prova dei grandi anelli! Oh, già! Allora, per vincere questa prova dei grandi anelli, bisogna prendere una lancia, che è un bastone molto molto lungo, e farla passare in due anelli di seguito, uno qui e uno che si trova laggiù in fondo! Se ne prendi solo uno, si continua finché non ne prendi due, per completare la prova da cavaliere! Già! Vi assicuro che sarà divertentissimo! Ma prima equipaggiamoci da cavaliere! Andiamo! Wow! Guardate qui! Questa è una vera lancia! Una vera lancia! Wow! E vi assicuro che è pesante! Questa è quella che userò per completare la prova dei grandi anelli! Ma cos'è un cavaliere senza il suo destriero? E guardate! Questo è il mio cavallo fidato, Brownie! Ciao, Brownie! Ciao! Ok! Ho la mia lancia e ho il mio Brownie! Pronti a procedere per la prova degli anelli! Andiamo! Ok! Ci siamo! Pronto, Brownie? Ok! Sono pronto anch'io! Prova da cavaliere! Sì! Ho centrato solo un anello! Significa che io e Brownie ora dovremo ripetere la prova da cavaliere ancora una volta! Anche Brownie la pensa così! Ok, andiamo! Ok, riproviamoci ancora! Penso di farcela! Partiamo! Sì! 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 Wow! È stato molto difficile! Comincio ad essere stanco dopo questa prova! Ma guardate! Abbiamo preso entrambi gli anelli! Grazie per avermi aiutato, Brownie! È stato davvero molto divertente! E ora è il momento di passare alla seconda prova da cavaliere! Su, andiamo a scoprirla! Venite! Wow, Brownie! Già! Ora abbiamo completato la primissima prova! E siamo molto vicini a diventare cavalieri! Già! Ok, la seconda prova da cavaliere è molto ardua! Servono agilità, forza e ottime abilità a cavallo! Già! Si chiama lancio della bandiera e consiste nello scambiarsi al volo con un altro cavaliere la bandiera tre volte! E se la si riprende tutte e tre le volte, allora la prova è completata! Ok, eccoci qua! Mi servirà un po' d'aiuto! Il mio amico, Sir David, mi darà una mano! Ok, pronto, Sir David? Pronto! Ok, cominciamo! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Già! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo ripreso la bandiera per tre volte! Ragazzi, è proprio divertente! Grazie, Brownie! Già! Ok, tutto ciò che rimane da fare è la terza prova! Ed è una prova davvero molto difficile! Si chiama la vestizione da cavaliere! Devo mettere tutti gli abiti che indossa un cavaliere in meno di dieci secondi! Wow! Non penso mi servirà il tuo aiuto per questa prova! Ciao, ciao! A più tardi nella scuderia! Oh! Ok, ora penso di essere pronto! Che parta il tempo sull'orologio! Cominciamo! Wow, questa armatura è bellissima! Già! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato le tre prove da cavaliere! E adesso sarà il cavaliere Blippi! Woohoo! Sono così contento che penso di fare insieme un ballo della vittoria! Ok, cominciamo! E vai! È stato davvero fantastico! Ora posso essere un cavaliere? No, non così in fretta, Blippi! Oh, ciao, Sir David! Rimangono ancora due prove da fare! Oh, ancora due prove? Ne abbiamo già completate tre! Spero che non siano più difficili! Quindi, quali sono queste due prove? Beh, devi imparare il codice dei cavalieri! Wow! Sapete cos'è il codice dei cavalieri? Neanch'io! Sir David, di che cosa si tratta? Un cavaliere deve essere valoroso! Ok, quindi dobbiamo essere coraggiosi! Il suo cuore conosce solo virtù! Ok, quindi significa che saremo molto buoni! La sua forza sostiene i deboli e la sua lama difende gli indifesi! Significa che bisogna aiutare chi ha bisogno d'aiuto! E le sue parole dicono solo la verità! Essere sempre sinceri! Sono molto facili! Possiamo farlo! E qual è l'altra prova? Beh, l'altra prova è il lancio del giavellotto! Wow! A sentirlo sembra davvero molto, molto difficile! Ma, ehi, ho la mia armatura da cavaliere e penso di riuscirci! Già! Ok, procediamo! Credo di essere pronto per cominciare! Andiamo! Wow! Non ci posso credere! Potrò incontrare la regina e diventare un vero cavaliere! Già! Ok, siamo pronti! Io, Maria Isabella, regina del castello, sovrana del regno, nomino te, Blippi, una, due e tre volte cavaliere del mio amato reame! Vai! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Per diventare cavaliere le prove sono state molto difficili! Vi ringrazio per avermi aiutato a completare tutte le prove! E' stato divertente imparare tutto sui cavalieri dell'undicesimo secolo, che è stato tanto, tanto tempo fa! E' stato bello scoprire che non erano solo forti, ma anche buoni e pronti ad aiutare gli altri! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora, non dovete fare altro che cercare il mio nome! Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Già! B-L-I-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! Beh, adesso sono Sir Blippi, chiaro? Che sciocchino! Beh, ci vediamo prestissimo! Ciao, ciao! Ehi, sono io, Blippi! E oggi ci troviamo alla sede dell'Associazione Culturale Gruppo Storico a Roma in Italia! Qui scopriremo tutte le cose fantastiche che i gladiatori fanno e indossano! Vediamo che cosa serve per essere un buon gladiatore! Uh-huh! Wow, guardate qua! Siamo dentro il museo della scuola per gladiatori! Uh-huh! Wow! Questo posto è meraviglioso! Sì, ci sono un sacco di cose che un gladiatore poteva vedere e indossare tantissimo tempo fa! Uh-huh! Ci sono tanti splendidi oggetti antichi qui! Uh-huh! Questi strumenti musicali! Wow! Uh-huh! Uh-huh! Già! Questo è uno splendido strumento musicale antico! Uh-huh! Sì! Per fortuna ci hanno dato il permesso di toccare gli oggetti del museo! Sì! Mi raccomando, chiedete sempre il permesso prima di toccare qualcosa! Uh-huh! Guardate che bello! Qui è fantastico! Uh-huh! C'è un'armatura e un uccello! Cucu! Cucu! Uh-huh! Uh-huh! Ok, giochiamo ancora a io vedo! Io vedo con i miei occhietti qualcosa di rosso con delle foglie verdi! Hmm! Vedete qualcosa di rosso con sopra delle foglie verdi? Ah-ah-ah! Già! Lo vedo anch'io! Guardate! È una bandiera! È rossa e ha delle foglie verdi! E ha anche delle scritte in latino! Ah-ah! Siete dei grandi osservatori! Su, continuiamo! Wow! Guardate quanti oggetti! Ah-ah! Uh! Giochiamo ancora un po' a io vedo! Io vedo con i miei occhietti, hmm! Un oggetto che ha qualcosina di verde! Hmm! Già! Guardate! C'è uno scudo con un bordo verde! Wow! Avete visto? Sì! Questo scudo è di colore verde, di colore rosso, di colore giallo e di colore blu! E sembra proprio uno scudo che poteva portare un soldato romano! Wow! 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 Ehi! È veramente pesante! Oh! Ma non certo per un gladiatore o per un soldato romano che erano molto forti! Ah-ah! 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 Ufff! Giochiamo un altro po' a io vedo! Hmm! Io vedo con i miei occhietti un elmo romano con delle piume rosse! Hmm! Vedete qualcosa del genere? Sì! Guardate qua! Un elmo romano con grandi piume rosse! Wow! Wow! Ehi! Ho un'idea! Giochiamo a travestirci e proviamo quello che indossava un vero gladiatore! Andiamo! Wow! Guardate questo posto! Qui sono custoditi gli elmi e le armature dei gladiatori! Wow! Ci sono tanti oggetti fantastici! Wow! Guardate! Sì! I gladiatori indossavano un sacco di cose per poter essere ben protetti! Ah-ah! Come questa cintura! Wow! La vedete? Sì! È come una normale cintura ma... Ah-ah! È molto dura e resistente! Oh sì! Si indossa così! Ah-ah! Ecco qua! La allacciamo! Questa poi ha due fibbie! Ah-ah! Sì! Si porta come una normale cintura! Ah-ah! Ma con questa ci si sente un gladiatore! Ah-ah! Wow! In questo posto c'è di tutto! Sì! C'è anche... Questa meraviglia! Wow! Sì! Ah-ah! Wow! Guardate! È molto flessibile! Wow! Ah-ah! Già! Tutti questi piccoli pezzi di metallo rivestono il nostro braccio così il braccio rimane al sicuro! Ah-ah! Wow! Tutte queste armature sono pesantissime! Ah-ah! Ecco perché i gladiatori erano super forti! Ah-ah! Wow! Chissà quali e quante altre cose indossavano i gladiatori! Hm! Oh! Guardate questa! Questa cintura è tutta pelosa! Uh-ah! Oh! Che bella sensazione! Oh-ah! Oh! Vedete questi? Guardate! Wow! Questi proteggono gli stinchi! Sì! Questa parte della gamba qua davanti! Uh-oh! Sì! si mettono in questo modo così le gambe sono al sicuro! Oh! Sapete? Un po' mi ricordano quando per giocare a calcio o a football sì! Indossiamo i parastinchi così calciamo la palla e non ci facciamo male! Wow! Oh! Ragazzi che forte! Sembra di aver viaggiato nel tempo all'epoca dei gladiatori! Ah-ah! Wow! Guardate cosa c'è dietro di me! Già! Gli elmi dei gladiatori! Oh! Sono fantastici! Ah-ah! Uh! Contiamo insieme quanti ce ne sono! Cominciamo! Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Oh! E molti altri! Sono un sacco di elmi da gladiatore! Già! E sono di tante fogge diverse! Wow! Guardate questo! Già! Questo qui davanti agli occhi ha tanti piccoli fori! Uh! Tantissimi! Uh! Uh! A me piace questo qui! Questo però è molto 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 pesante! Già! E guardate! Ha degli occhi veramente simpatici! Sembrano quelli di una mosca o di qualche altro insetto! Uh! Ah! Già! Ecco! All'altezza degli occhi come se fossero gli occhiali da gladiatore ci sono dei cerchi e dei piccoli rombi e dei piccoli triangoli! Wow! Cerchi rombi e triangoli! Ah! Beh! Penso che dovremmo provare quest'elmo! Adesso diventerò Flippi il gladiatore! Ah! Pronto! Wow! è troppo piccolo! Wow! Wow! Già! Credo che la mia testa sia troppo grande! Molto divertente! Già! E avete notato? Guardate cosa c'è sopra! Sembra una piccola pinna! Come quella di un delfino! Mee! 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 Che sciocco! Wow! Avete visto questo elmo? Cospiterina! Wow! Che stronezza! Wow! Questo sembra una specie di animale! Mmm! Sapete a quale animale può assomigliare? Mmm! Vi do un indizio! È un animale con le ali! Già! E ha il becco! E ha anche delle piume! Wow! Ahah! Già! Somiglia proprio a un uccello! Wow! E quest'elmo da gladiatore ha delle piume stupende! Ok! Proviamo a indossarlo! Credo che questo sia un po' più grande! Vado! Oh oh! Anche questo è piccolo! Beh! Ne troverò uno della mia taglia! Wow! Vedete che altro c'è qui? Meraviglia! Degli scudi! Wow! Sono fantastici! Sono tutti differenti! Già! Hanno forme diverse e colori diversi come questo piccolo cerchio! Oh! È piccolo ed è molto leggero! Wow! 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 La faccio volare! Già! Questo è il mio preferito! Già! Sembra uno scudo simpatico e poi ha un'impugnatura bella morbida e poi è leggero! Wow! Ma guardate qui! Questi scudi sono bellissimi! Wow! Questo ha la forma di un enorme rettangolo! Wow! Avete visto? È colorato di giallo e anche di blu! Wow! Guardate! Assomiglia un po' a una stella! Wow! Una stella grandissima! Lassù nel cielo notturno! Beh! Questo è davvero colorato ma ce ne sono di tutte le forme come questo che è un enorme ovale! Wow! Ma questo scudo ovale verde e in parte anche a scacchi è veramente pesante! Credo proprio che lo poserò! Ecco! Lo metto proprio sopra questo! Beh! Credo che ci serva un altro elmo che mi calzi alla perfezione! magari questo qui ne proverò altri finché non troverò quello giusto! Ok! Oh! Oh! È complicato! Ok! Ci siamo! Woo! Ecco! Sono vestito per l'addestramento da gladiatore mi manca solo un istruttore Forse lui è un istruttore Oh! Ciao! Io sono Blippi Come ti chiami? Ciao! Mi chiamo Partacus Sembra un tipo severo Tu sei un istruttore di gladiatori Sì! Certamente! Oh! Bene! Credi di poter addestrare me per diventare un vero gladiatore? Vuoi essere un vero gladiatore? Sì! Sarebbe fantastico! Allora andiamo nel Ludus Oh! Il Ludus è la palestra dei gladiatori Andiamo! Andiamo! Wow! Guardate qua! Questa è la palestra dei gladiatori! Wow! Uh! Ci sono tante belle cose da fare per diventare forte come un gladiatore! Ma da cosa iniziamo? Dovremmo iniziare dai due tipi tipi di corde Dovremmo andare là e dopo saltare e poi abbiamo i sacchi di sabbia e il palo devi correrci intorno e dopo le scale e alla fine faremo addestramento con la legna pesante Wow! Sono tanti esercizi e sembra divertente ma mi farai vedere tu come devo fare? Tu sei pronto? Sono pronto! Andiamo! Wow! Che bellezza! Si comincia! Cosa facciamo qui? Ora ti spiego come funziona serve per la velocità e l'agilità e anche come riscaldamento quindi devi fare questo movimento uno due tre quattro sempre sotto la corda dopodiché vieni qui e a piedi uniti salti da una parte all'altra della fune ok? E dopo veloce 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 devi arrivare qui in questa zona e non devi toccare questi sono sacchi di sabbia con dentro i chiodi questo è difficile devi evitarli e dopo dopo devi andare così intorno al palo e quindi qui nelle scale veloce 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 e dopo per ultimo devi prendere questo e fare uno due tre quattro tanti affondi quanti riesci a farli giù wow sembra fantastico si si possono fare tante cose per essere forti veloci e molto agili come un vero gladiatore beh credo che sia ora che ci provi io sei pronto? sono super pronto ti aspetto nell'arena ok ci vediamo lì ciao a dopo ora possiamo allenarci per diventare gladiatori woohoo cominciamo woohoo woohoo ashi woohoo woohoo whoa e uno due vado avanti e uno due vado avanti mi sento pronto e vai! ora entriamo nell'arena sì! ce l'abbiamo fatta! abbiamo finito l'addestramento da gladiatori e ora abbiamo lo scudo l'armatura e anche l'elmo è il momento di fare il gladiatore ma nell'arena? dai, andiamo! wow! avete visto? è tutto fantastico! non riesco a credere che siamo nell'arena è il momento di usare le nostre mosse da gladiatore cominciamo! e vai! ecco! ce l'abbiamo fatta! è dura essere un gladiatore come sto andando? e vai! evviva! ha alzato il pollice! ce l'abbiamo fatta! wow! oh ciao! eccomi! ciao Blippi! ehi! che cos'è? è una cosa che ho qui per te ti faccio vedere come funziona oh! ok! questa è una rete da gladiatore wow! una rete da gladiatore! osservate! wow! che forte ragazzi! wow! e ora cosa fa? wow! guardate! oh! ti prego! posso provare? sì! lanciala! allora vado! proviamo a usare la rete da gladiatore vediamo un po' ok! prima bisogna tracciare un otto nell'aria proprio come ha fatto lui ok! vai con l'otto! e ora è il momento del lancio! wow! va bene! forse mi serve un po' di pratica ecco il tuo attestato per aver completato l'addestramento da gladiatore ok? guardate qua! ho completato il mio addestramento da gladiatore! evviva! beh! grazie infinite per l'addestramento grazie a te! è stato un piacere wow! una stretta di mano da gladiatore! grazie di cuore! ciao ciao! wow! è stato fantastico! abbiamo ottenuto l'attestato finale! e mi sono divertito un mondo alla scuola per gladiatori! già! abbiamo giocato a io vedo abbiamo seguito l'addestramento e ho anche indossato un'armatura da gladiatore! uh uh uh! bene! siamo arrivati alla fine del video! ma se volete vederne degli altri non dovete fare altro che cercare il mio nome! ehi! fate con me lo spelling del mio nome! ok! andiamo! oh oh! pronti? b-l-i-p-p-i blippi! bravissimi! bene! ci vediamo presto! ciao ciao! ciao!